Io mi vanto di essere una persona normale, ho un atteggiamento nei confronti della vita come lo avevo quando ero ragazzino e andavo a scuola e trovo nello sguardo anche di Lodo lo stesso tipo di atteggiamento. Poi siamo stati fortunati, abbiamo avuto talento, i nostri genitori c'erano fantastico, bello, ce lo viviamo, ma non per questo cambiamo atteggiamento nei confronti della vita. Grazie a tutti